Signora ditemi, quindi volete passare alla sigaretta elettronica per qualcosa che è successo in casa vostra, cosa è successo? La sigaretta vi siete dimenticata mentre stavano andando a dormire, ve la siete dimenticata accesa, la sigaretta è caduta e che cosa ha provocato? È successo che mi ha già picciato, la casa si è distrutta, è uscita che mi ha dato l'acqua a metà a metà a casa, non mi ha messo le catture, non mi ha messo le catture, non mi ha messo le catture, non mi ha messo le catture. Non è solo per voi che volete la sigaretta elettronica, quanti ne siete in casa? Noi miei figli sono tutti noi, tutti i bambini, stanno a scuola i bambini, tre solo a chi ne ha freddo ancora.